Buongiorno buongiorno amici di Viva le Due, siamo al Glass Special Ciao buongiorno, oggi hai visto come sono? Ma perché quello che hai da sole che è notte? Biden quando va a giocare al golf Senti ma tutto buio qua, è buio, è prestissimo Eh sì, sono in mezzo, guarda Il glass è spento, il glass è spento, vedi? Vedi? Guarda, guarda Vediamo? Hai visto? C'hai fatto? Vuoi vedere che te lo faccio? Col pugno basta, col pugno Se vuoi te lo faccio col sedere Guarda Col sedere Vediamo Hai visto? È fighissimo Vuoi che te lo faccio? Come te lo faccio? Fammelo col pensiero Col pensiero Col pensiero Col pensiero Col pensiero Aspetta, aspetta, aspetta Dai, dai, dai Dai, dai, dai Hai visto? Hai visto? Hai visto? Sì, l'ho visto È incredibile Ma come fai, ma come... Sai che questa cosa che hai fatto Mi ricorda Cosa? Mi ricorda... Qualcosa di... Con sto pugno che... Che ti ricorda? Mi 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 ricorda? Te per bella Mi ricorda? No!